Sindaca, dopo tanti anni, veramente tanti anni di discussioni, di dibattiti, di querel pubbliche, si arriva all'adesione ad una stazione unica appaltante. Che orgoglio c'è da questo punto di vista? E si poteva forse fare meglio, nel senso che quella della provincia è proprio la migliore possibile? Allora, intanto oltre all'orgoglio c'è emozione, perché è uno degli step fondamentali del nostro segnale proprio della nuova amministrazione, unitamente all'adesione alla carta di avviso pubblico, ai concorsi esternalizzati, è oggi questo grande step deliberativo, a cui si abbinerà anche uno step regolamentare di grande importanza, che è quello che va a regolamentare anche gli affidamenti sotto soglia. Quindi meno di 500 mila euro per i lavori e meno di 221 mila euro per i servizi. Quello che voglio dire, certo, è l'ente di prossimità, quello della provincia. Nasce da un'idea di concertazione molto risalente. Anche le prefetture negli anni precedenti hanno sempre guardato, inabbinata con l'ente provinciale, questa possibilità, questa stazione unica appaltante che è per importi limitati, lo ricordo, e che al momento è attiva da luglio del 2023 e non fa rilevare, ecco, dei contenziosi di grande levatura e oltretutto ha un corredo tecnico e tecnologico che è assolutamente moderno e d'avanguardia. Certo non è un patto sine die, nel senso che noi saremo attenti, vigili, sulla temporizzazione anche dei lavori. Saremo anche vigili che le nostre pratiche di affidamento vadano a buon fine, sempre al miglior offerente, che il miglior offerente abbia tutti i canoni e i requisiti di legittimazione a contrarre e lo faremo con grande impegno, essendo anche una portata proprio alla mano. In futuro potremo senz'altro in ogni momento chiudere il nostro rapporto pattizio per gli appalti con l'ente e aprirne un altro che può risultare di migliore fattibilità, di migliore convenienza o perché no, non lo escludiamo affatto. Una volta che la tecnostruttura sia allineata alla pianta organica aspettante, ricordo che stanno oltre 400 scoperture al momento, perché no ripensare proprio a un ufficio appaltante, magari con unica mansione dedicata agli appalti, soprattutto quelli di grossa entità. Per cui oggi è una conquista proprio di legalità, è una conquista di democrazia, è una conquista di trasparenza, è una conquista politica ed è una conferma della compattezza dell'Unione, del campo largo progressista, rispetto agli impegni assunti con il proprio elettorato. Con il nuovo codice degli appalti però del governo Meloni, insomma poi le infiltrazioni mafiose si vanno anche a incuneare nel subappalto, perché ce ne possono essere tantissimi. Come comune che cosa potreste fare per evitare che poi ve ne siano 21, 27, come sono possibili? Senz'altro sarà una pista di lavoro assolutamente prioritaria, non solo attenzionata ma proprio percorsa, perché tutte le fughe di legge, tutte le furbizie anche negoziali che appartengono alle menti più elevate ma quelle che sono dedicate alla malversazione saranno comunque da noi arginate il più possibile. Come? Noi ricordo che abbiamo una grande squadra Stato qui in provincia di Foggia e voi lo sapete l'infiltrazione sugli appalti, sui subappalti, sulle maestranze di qualche gestore, comunque vanno chiarite e hanno anche dei connotati talvolta opachi o torbidi che vanno chiariti. Sono sempre garantista perché il lavoro va premiato, va gratificato, il lavoro di impresa è un lavoro tante volte geniale che viene dal basso, però non è affatto geniale, non affatto premiale quello che cerca nella scorciatoia, nell'inghippo da bypassare, l'inghippo legale, a fare la propria fortuna e quindi assolutamente non è nelle nostre corde. Ricordo che giovedì pomeriggio ho un incontro a Roma col segretario generale dell'ente che ricordo essendo segretario anche il responsabile della trasparenza e dell'anticorruzione dell'ente saremo proprio ricevuti alla sede centrale nazionale dell'ANAC per un accordo di programma sulla legalità e sull'anticorruzione. quindi credo che siano capitoli di uno stesso libro che ha un sapore assolutamente dalle mani pulitissime. Grazie. Grazie.